ma che bella ma che bella bmw 118 quindi un serie 1 eccolo qui un 2000 turbodiesel da 150 cavalli del dicembre 2016 comunque un euro 6b vettura meravigliosa sarà che a me piace particolarmente questo genere di vettura allora andiamo nel dettaglio entrate tenuta benissimo il vano a carico decisamente rispettabile per un'auto compatta di questo genere si può subito notare la panchina posteriore abbattibile stoppiabile sedili perfetti veramente utilizzata molto bene quest'auto sedili in tessuto vetri elettrici ovviamente al posteriore bocchetta dell'aria condizionata vetture ormai insomma completi di tutto no sedili regolabili in altezza e in ogni sua posizione vediamo qua cruise control comandi al volante per la radio come avete sentito si è sbloccato il lo sterzo perché ho le chiavi in tasca l'avviamento è a tasto andiamo ad apprezzare subito tutto la radio tutti i comandi sono gestiti da questo bel joystick a portata di mano cambio manuale a sei rapporti possibilità di regolare le sospensioni e la reattività dell'auto in generale con le modalità sport fino all'eco insomma quella per consumare un po meno radio completamente digitale ovviamente climatizzatore automatico e bizona possibilità di regolare ad esempio la distanza insomma la tenuta in corsia in carreggiata come si può vedere da anche dal cruscotto i chilometri eccoli qua sono 79 mila e poco meno di 800 in questo momento vettura completa di tutto vediamo un po retrocamera certo che si insomma auto completa cosa cosa dirvi navigatore eccolo lì insomma macchina bella comoda veloce sportiva ha un sacco di belle caratteristiche come sempre come tutte le nostre auto forniamo tutto lo storico tagliandi quindi le manutenzioni eseguite la certificazione chilometrica la possibilità di iva esposta insomma venitele a vedere a provare insieme a tutte le altre auto che si sono dietro in vetrina venitevi a trovare e proviamola insieme proviamo insieme ne sarete veramente soddisfatti alla prossima